buongiorno a tutti ben ritrovati eccoci qui quest'oggi nuova puntata di good morning milano sempre qui in diretta ma quest'oggi appunto siamo usciti un po la nostra tradizione dell'estate quella di uscire dal nostro studio quest'oggi lo vedete siamo in un'officina meccanica siamo meccanica la suma nuova suma un'officina meccanica nella zona di san siro perché parleremo di come si può fare come si può fare a convertire i propri la propria auto in un'auto elettrica e ne parliamo subito ed eccoli qua vladimir longo e massimiliano longo buongiorno allora buongiorno 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 precedentemente altri vent'anni dall'altra parte della strada praticamente quindi un po di esperienza nel mondo dell'automobile l'abbiamo acquisita e oggi stiamo iniziando un nuovo processo per l'elettrificazione delle auto un po conversione nel senso diciamo che se avete un'auto un po datata e state pensando di buttarla via forse non è il momento adatto aspettate un attimo perché potrebbe arrivare una grande novità già alla fine dell'estate si potrebbe iniziare a questo processo adesso poi ne parleremo meglio quindi già solo come ufficina facciamo che insomma è un luogo storico appunto di questa zona di milano e insomma anni e anni passati qua e si vede ma la cosa bella è che insomma le sfide non finiscono mai no cioè quindi c'è questa nuova propensione appunto alla possibilità di convertire un veicolo elettrico perché farlo è un'innovazione che comporta una una non rottamazione delle vetture che ad oggi a milano non si possono più utilizzare e guardando sempre con un occhio al futuro nel giorno di riattivazione dell'area b è la puntata perfetta allora visto che guardiamo di là perché perché là c'è quello che non è più non è un prototipo è proprio una macchina un'ex macchina reale su cui appunto andrete a lavorare allora magari avviciniamoci un po per capire meglio come funzionerà poi ci raggiungerà anche Gaetano che è colui che con la sua società mobility revolution vero si chiama se non mi ricordo male hanno sviluppato un kit per poter far sì che qualsiasi macchina ad esempio Piera fai vedere questa è una è una classe A di un po di anni perché è del 2003 però è già una vettura che porta della tecnologia perché è una macchina che ha già l'ABS all'aria condizionata servo sterzo sistemi passivi attivi per la sicurezza e quindi una macchina che è tecnologicamente avanzata ormai con i suoi anni non potrebbe più circolare non potrebbe più circolare e in questo modo gli diamo una nuova vita dandogli un po di elettricità Ma volete dimmi che fra qualche anno cioè sarà un po come qualche anno fa si faceva col GPL cioè potrò prendere la mia macchina e farla diventare elettrica? Penso proprio di sì adesso siamo agli inizi non proprio agli inizi però in questa fase siamo un po' all'avanguardia su quello che è il mercato Quali sono le macchine più adatte per un processo del genere? Vai tu Massimiliano Allora ad oggi stiamo studiando il kit per l'elettrificazione del classe A il kit è già pronto lo stiamo preparando l'automobile all'installazione di questo kit nuovi kit sono in fase di lavorazione ma penso che Gaetano sia più informato e al passo con le novità sui kit che stanno costruendo al momento Allora l'abbiamo nominato più di una volta prima che la stagista ci raggiunge qui prego vieni eccolo qui allora Gaetano Mobility Revolution abbiamo parlato appunto di questa novità che è la possibilità di convertire un'auto non elettrica in auto elettrica questo avviene grazie a un kit che avete sviluppato voi Esatto allora non soltanto noi in tutto il mondo ci sono aziende che fanno questo di mestiere convertono i veicoli in elettrico in Italia è possibile perché c'è un decreto ministeriale che è stato emanato nel 2015 è stato emanato nel 2015 dal Ministero Infrastrutture e Trasporti io sono stato uno dei tecnici che ha partecipato a questi lavori quindi tra il 2014 e il 2015 e l'Italia è il primo paese che in Europa può fare questo tipo di attività Finalmente un primato italiano di cui andiamo a vantarci Esatto adesso la Francia infatti ci ha copiato hanno fatto l'anno scorso un decreto del tutto simile però noi appunto dobbiamo rimbuccarci le maniche per fare una squadra di persone che siano in grado di convertire questi veicoli che abbiamo qui dietro Che tipo di veicoli appunto si possono convertire al momento? Allora attualmente si possono convertire tutti i motoveicoli e di fatti stiamo aspettando che venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto moto che in realtà doveva essere pubblicato un anno fa ma a causa Covid è tutto finito dal dimenticatoio e veicoli a quattro ruote quindi per trasporto persone e per trasporto di cose fino a 3,5 tonnellate mentre per trasporto persone non ci sono i limiti quindi teoricamente anche gli autobus e poi vabbè fuori strada anche non ci sono problemi veicoli come camper veicoli diciamo ricreazionali e altre tipologie di veicoli in questo caso abbiamo una classe A giusto ok ma facciamo vedere come potrebbe funzionare appunto cioè quali sono gli interventi che allora Piero io ti dico vieni pure avanti lascia stare noi e segui le indicazioni a cui adesso do Gaetano al microfono segui le sue indicazioni che ci spiega appunto come può avvenire l'intervento ok allora quindi intanto spieghiamo perché abbiamo scelto la classe A la classe A era una macchina che inizialmente nella sua diciamo il suo concept doveva nascere come veicolo elettrico poi la Mercedes non ne fece nulla è una macchina che ha praticamente una struttura a sandwich e tutta la parte inferiore noi possiamo notare che qui abbiamo il motore qui c'è il cambio qui praticamente abbiamo tutto il sandwich della macchina con la linea di scarico e andando dietro abbiamo il serbatoio e appunto questo è il fondo della macchina questo doppio fondo che c'è e che ci permette di alloggiare eventualmente batterie anche fino a 30-40 kilowatt quindi c'è molto spazio qui sotto possiamo sfruttare quindi il serbatoio togliendolo possiamo sfruttare il doppio fondo che è quello proprio del bagagliaio quindi del vano bagagli della macchina e poi possiamo sfruttare tutto questo spazio per riempirlo di batterie oltre ovviamente anche a un piccolo spazio qua nel motore perché noi praticamente tutto il motore endotermico lo andiamo a togliere qui abbiamo il cambio lasciamo soltanto il cambio mettiamo qui il motore elettrico e poi ricolleghiamo tutti i servizi di bordo della macchina che nel caso sono l'ABS, l'SP servosterzo, idroguida eccetera ecco appunto quindi viene cambiato completamente il motore termico viene messo un motore elettrico solo qua nella stessa posizione però dicevi la cosa interessante è che tutte le parti che non servono più perché appunto il serbatoio o così possono essere riconvertite per mettere le batterie giusto? ok con una macchina del genere che tipo di macchina avremo dopo l'intervento? quindi quanti chilometri potremo fare? come funzionerà la ricarica? allora praticamente noi possiamo in base anche alle esigenze di prezzo cioè delle possibilità economiche delle persone noi possiamo avere una macchina che viene limitata diciamo all'utilizzo prettamente urbano quindi mettendo un motore poco potente perché allora ricordiamo comunque questa macchina è una macchina questa qua era anche un un alto di gamma era una macchina che aveva un 70 kW di potenza e 95 cavalli una macchina che raggiunge i 180 km orari noi possiamo o replicare quindi avere un kit anche ad alta tensione in grado di sprigionare quel tipo di potenza oppure come nel nostro caso depotenziarla a una velocità inferiore noi non ci serve avere un veicolo che abbia una velocità di 180 km orari anche perché poi 180 non ci può andare e quindi di conseguenza non ha senso avere un kit così potente noi lavoreremo con un kit a bassa tensione che sprigiona il 65% della potenza originale del veicolo e praticamente noi possiamo dare una velocità diciamo urbana tra i 50 e i 60 km orari autostradale anche tra i 90 e i 120 km orari anche i 130 km volendo questa macchina è molto aerodinamica e con un'autonomia se riusciamo a riempirla tutta di batterie anche di 250 o 270 km con il peso con il peso come si fa il problema sempre della batteria che è quello più ne metto più autonomia ma più ne metto più pesa la macchina e quindi poi devo giocare con questa cosa come riuscite a bilanciare questo fattore allora infatti il peso è la criticità diciamo che determina l'autonomia di una vettura dobbiamo fare dei calcoli quindi noi esattamente calcoleremo quanto peso andiamo a togliere con tutto il sistema diciamo di propulsione endotermica e dovremo ricalcolare quanto peso andiamo a mettere con le batterie per fare questo ci sono degli strumenti che si chiamano bilancio e pesa ruota che sono che vanno praticamente al di sotto di ogni ruota sono degli strumenti che tarano diciamo e pesano la macchina per ogni asse anteriore e posteriore contro l'equilibrio della massa dell'asse anteriore e dell'asse posteriore destra e sinistra e anche appunto lo sbilanciamento anteriore e posteriore che comunque deve essere sempre 50-50% e quindi la tecnologia c'è e noi la possiamo utilizzare appunto allora la tecnologia c'è le soluzioni sono innumerevoli per un punto immagino poi con altre auto del genere si possono trovare altre soluzioni quando a questo punto si potrà veramente avere la conversione elettrica? beh dunque allora noi siamo una rete di imprese Mobility Revolution è una rete di imprese che si è costituita nel 2015 prima come rete contratto per far nascere questo sogno poi diventato una rete soggetto e adesso stiamo trovando tanti amici installatori che sono interessati come ad esempio Vladimiro e Max di Nuova Suma sono interessati ad imparare prima di tutto perché comunque va fatto un periodo formativo nel senso loro hanno già la mecatronica bisogna fare i corsi per la sicurezza sui veicoli elettrici che abbiamo già fatto con loro online adesso in questo periodo per forza e in ultimo è tutto il ciclo di formazione sull'installazione dei kit questo sabato proprio qui da loro noi convertiremo una moto una moto storica e poi successivamente verso la fine di luglio appena arriveranno i motori e le batterie faremo anche questo qua insomma non si smette mai di imparare qui bisogna studiare tantissimo però perché secondo te è importante arrivare a imparare questa nuova tecnologia e darla poi ai tuoi clienti uno perché è il futuro oggi è il futuro l'elettrico si sta sviluppando molto velocemente e per non rimanere indietro bisogna studiare e applicarsi questo è il modo più diretto che abbiamo dove possiamo imparare veramente molto dall'esperienza che ci può trasferire Gaetano e questo è quanto insomma nuova generazione vecchia generazione com'è? studia la vecchia generazione oppure fa fatica? no no studia si applica è molto propositivo segue le idee di innovazione che vengono apportate da noi giovani all'interno delle officine SUMA insomma un kit quindi che potrà davvero dare una rivoluzione forte appunto una mobility revolution importante ai vostri veicoli abbiamo capito quindi che insomma arriverà è a breve siamo già pronti praticamente manca poco quale può essere invece il futuro appunto di questo tipo di kit e come pensate poi di andare avanti nel futuro vostro? le applicazioni sono molteplici nel senso adesso noi qui stiamo applicando un kit molto basilare molto semplice formato da un solo motore l'evoluzione prevede appunto che nel caso di macchine più grosse o di veicoli commerciali o ad esempio i camper utilizzare più motori più motori per dare più potenza e più brillantezza al veicolo fino a quando appunto il decreto potrà accettare anche di utilizzare dei motoruota cioè dei motori direttamente inseriti nelle ruote questo è il futuro perché i motoruota sono ancora più efficienti e performanti dei motori tradizionali potrebbero essere montati su qualsiasi ruota volendo? esatto sono uno standard teniamo conto di questo oggi noi lavoriamo con tantissimi dispositivi nella logistica negli ospedali piuttosto che nei magazzini automatici che hanno già e che utilizzano già sulle ruote dei motoruota quindi oggi diciamo il ministero infrastrutture della sport ha ancora un po' timore a utilizzare questa tecnologia però se avessimo voluto applicare questa macchina dei motoruota avremmo potuto migliorarla rendendola intanto integrale perché avremmo messo quattro motori nelle ruote e avremmo potuto già da subito ridare la potenza originale del veicolo quindi farla spingere anche fino a 180 all'ora perché ogni motore noi possiamo avere anche fino a 18 kilowatt per ruota e quindi sarebbe stato 72 kilowatt che era più in realtà della potenza originale del veicolo allora abbiamo capito che insomma manca veramente poco il futuro è sempre più efficiente invece in questo caso nota dolente dobbiamo dirla quanto costerà una cosa del genere come funzionerà e quanto è la caduta invece del prezzo che sono molto probabilmente adesso l'inizio saranno altissimi probabilmente invece scenderanno molto prima facciamo un esempio diciamo si arriverà a pensarla come quando uno diceva ma si metto sul GPL così la macchina dovrà di più allora sull'elettrico bisogna fare un altro ragionamento il costo non è cioè il costo è la valutazione immediata ma che si ripaga nel tempo a differenza dei motori endotermici o anche al GPL perché allora chiaramente escludiamo questa macchina che è un prototipo questo è molto costoso a regime noi saremo in grado sicuramente di intanto vendere due tipi di servizio o la conversione del mezzo quindi ti converto la macchina te la vendo è finita lì oppure anche la forma di noleggio operativo quindi ti posso dare una macchina convertita che te la tieni anche un mese e poi me la riporti indietro e quindi vai in giro soltanto un mese con la macchina elettrica detto questo per l'ordine di grandezza di conversione diciamo questo che una trasformazione può partire anche quelle più semplici magari anche delle mini car visto che adesso appunto c'è o parliamo anche delle moto una conversione di una moto può partire anche da ad esempio 1500 euro quindi è una cosa molto semplice esatto una mini car magari 2005 3000 euro stiamo parlando di prezzi a partire da ok non che costa perché poi la macchina va valutata nell'interezza perché questa macchina ad esempio aveva problemi meccanica quindi bisogna risolvere i problemi di meccanica magari qualcuno vuole anche rifare la carrozzeria e bisogna risolvere questi altri problemi quindi già che sono lì le sistemo tutte le cose esatto e poi il costo più grande qual è? quello delle batterie chiaramente le batterie poi possono essere vendute o noleggiate anche loro come fanno i costruttori di macchine nuove il vantaggio di un veicolo così qual è? chiaramente tu non hai più limitazione alla circolazione e inoltre non hai la limitazione di essere costretto a cambiare il veicolo ogni 8 anni perché te lo dice la normativa ambientale questo è un veicolo endotermico diventa un veicolo elettrico morirà un veicolo elettrico ma tu potrai applicare il retrofit del retrofit fra 5 anni questa tecnologia sarà obsoleta viene da officina una nuova suma e ti dice vuoi mettere la tecnologia migliore? batterie migliori? eccole qua tutto perché questo è modulare tutto viene studiato in modo proprio come il GPL la filiera è la stessa identica del GPL è modulare quindi avrai nel GPL il bombolone il polmone tutti i vari la strumentazione elettronica i tubi per dire e qui è la stessa cosa avrai dei cablaggi batterie motore carica batterie e la presa elettrica come funziona per una volta che ho a casa il discorso di carica si riesce a ricaricare ormai si dice ho bisogno per forza la colonnina power oppure posso farlo tranquillamente con la corrente di casa come funzionerà in quel caso? allora puoi fare quello che vuoi questi veicoli sono progettati sia per caricare a casa con una presa domestica 220-10-16A insomma tradizionale o chi ce l'ha 32A puoi caricare anche alla 380 industriale come una sua presa rossa o puoi andare anche in colonnina non è un problema tutto dipende da che cosa? dal tipo di motore che hai dal tipo di caricabatterie e dal tipo di batterie che devono chiaramente poter ricevere quel tipo di carica perché se hai un pacco batterie di 10kW faccio un esempio una Smart sicuramente non potrai caricare a 44kW perché la batteria è troppo piccola però la Smart la puoi tranquillamente caricare a casa ora 500 durante la notte in 4-5 ore pronta carica domestica spendi niente lo fai durante la notte insomma diciamo che è veramente un modo per salvaguardare soprattutto delle macchine a parte la classe A che mi piaceva non piacere ma ad esempio a 500 vuol dire salvare un mare di 500 che a volte magari hanno difficoltà oppure comunque dopo gli anni insomma uno tende anche magari a tenerla un attimino e invece la posso riqualificare in più salvare dal cimitero proprio certe macchine nel senso che quindi l'aspetto affettivo l'aspetto ecologico daccelo dai chiudi tu dandoci un buon motivo per convertire la propria auto in elettrica allora un buon motivo è per viaggiare nel silenzio togliere il rumore dalle città che insomma le grandi città metropolitane sono piene di rumore l'elettrico ci aiuta moltissimo togliere un po' di smog che anche questo non guasta avere il piacere di guidare una macchina magari di 50 anni che diversamente sarebbe morta con il comfort della tecnologia di adesso con il comfort della tecnologia odierna sul silenzio è verissimo io vi invito ad esempio l'ultimo giro d'Italia è stato fantastico perché c'erano i ciclisti che facevano più rumore delle macchine che le seguivano che sono tutte elettriche ormai no? fa quasi più rumore la cattina della bicicletta che ormai che una macchina elettrica quindi davvero sul rumore pensate se tutti avessero delle auto elettriche il silenzio ci sarebbe nelle strade anzi so che sono dimessi anche dei rumori su certe auto proprio perché anzi sono fin troppo silenziosi a volte quindi pericolose per chi magari non se ne accorge che arriva però insomma davvero è il futuro e la cosa bella è che è dietro casa vostra questo futuro nel senso che davvero grazie a mobility revolution come nuova suma altri lo so che poi state facendo una bella rete in italia di convertitori siete convertitori di effetti installatori che potranno convertire la vostra auto in elettrico io Gaetano ti ringrazio tantissimo davvero di averci fatto conoscere questa tecnologia molto molto interessante dacci le coordinate per sapere un po' meglio dove trovarvi sito internet facebook come facciamo a sapere di più beh intanto nuova suma che è l'officina che ci ospita il sito e c'ha appunto la pagina in costruzione e in evoluzione del retrofit elettrico e poi noi www.mobilityrevolution.org ha nominato il vostro sito che è appena pubblicato dateci allora anche le vostre coordinate www.nuova suma.it comunque troverete nei commenti alla diretta tutti i link guarda Aurora che è quella che deve mettere adesso appena rientriamo in studio io vi ringrazio tantissimo davvero per averci aperto le porte di l'officina tra parentesi l'officina non dimenticatevi l'officina di una volta sporche puzzolenti qui sembra veramente di stare in un ristorante d'alta classe con anche delle tecnologie davvero davvero all'avanguardia grazie mille davvero allora ai nuova suma di averci aperto ai Vladi e Max di averci aperto la propria casa grazie Gaetano di averci fatto conoscere davvero una tecnologia molto molto interessante noi ci vediamo venerdì sempre in diretta qui su Milano News venerdì siamo in studio ma lo sapete mercoledì poi saremo ancora fuori perché ormai i mercoledì vanno così tutto l'estate fino a luglio andremo in diretta dalla città per raccontarvi un po' quello che succede intorno alla nostra grande Milano grazie mille arrivederci a presto